16 gennaio 2021 in diretta con ggj dalla certosa di serra san bruno innevata guardate che meraviglia sullo sfondo tutta per voi sono proprio venuto apposta per farvi godere di questa maestosità già la certosa di serra san bruno è bella sempre per questo culto per questa grande fede che abbiamo anche nei confronti dei dei certosini ma vederla con la neve ragazzi è tutta un'altra cosa adesso allargo la panoramica vedete c'è già un sacco di gente che gioca adesso fra un po andiamo alla santa maria del bosco a vedere anche lì questo paesaggio incantevole un saluto a massimo raffaele di cardinale che ci segue sempre vi ricordo che stanotte con ggj con la micra andremo alla lacina e poi prenderemo una mountain bike e faremo la notturna sulla neve con la bicicletta quindi non mancato a questo appuntamento adesso andiamo alla santa maria del bosco rimanete collegati vedremo il san bruno magari nel laghetto ghiacciato